come vedete le campioni, questi in casa li li distruggo perchè vai giù così? eh non lo so è buono è buono, ha fatto un bel po' di danni questa faccola acquista io giocherò solo con costruzioni eh sì eh sì quale missione è perfetta? eh sì, per me siamo andati a tirare la tv sì, sì e quando vedi che missione è andato andiamo a tirarlo fiero ritorno un attimo alla dobbia che devo riavviare ok minchia